Ciao mi chiamo Steve, ti guiderò attraverso questo tutorial per spiegare come rimuovere un tasto della tastiera. I tasti sono fissati sulla tastiera per mezzo di un meccanismo chiamato cerniera. Idealmente per rimuovere un tasto della tastiera senza rischiare di romperlo, è necessario conoscere in anticipo il tipo di cerniera che contiene il tasto. Non è sempre il caso. I tasti della tastiera sono semplicemente agganciati alla tastiera e non come pensano i clienti, incollati alla tastiera. Vedremo una tecnica che ti consente di rimuovere le tasti senza rischiare di romperle. Il tasto è generalmente fissata sulla cerniera da due punti di clip. Questo è il caso più generale ma ci sono alcune eccezioni come ad esempio sulle tastiere IBM. Ecco tre esempi che mostrano i due punti di clip. Si noti che nei primi due esempi, la clip è nella parte superiore, mentre nell'ultimo esempio si trova nella parte inferiore del tasto. In generale, le cerniere hanno anche due piccoli perni che consentono di mantenere il tasto fissata sulla cerniera. Questi due piccoli perni saranno alloggiati dietro due piccole scanalature situate sul retro del tasto. Ora vediamo come rimuovere un tasto. Il principio è trovare dove si trovano i due punti di ritaglio della clip. Iniziamo con l'angolo in alto a destra e solleviamo delicatamente il bordo del tasto senza forzare. Se il tasto si stacca facilmente, hai trovato il primo punto di clip. Quindi trova solo il secondo. O in alto a sinistra o in basso a destra del tasto. Se l'angolo in alto a destra è sbagliato, fare lo stesso nell'angolo in basso a sinistra. Quindi prova l'angolo in basso a destra. O nell'angolo in alto a sinistra. Una volta sbloccata il tasto, è possibile rimuoverla delicatamente dalla tastiera. Questo tutorial è ora completo. Puoi anche controllare i nostri altri video per installare un nuovo tasto della tastiera. Se è necessario sostituire la tazza di gomma, consultare il tutorial dedicato. E infine per tutte le richieste di sostituzione dei tasti della tastiera, contattaci direttamente sul nostro sito web LaptopKey-Europe.com. A presto! Grazie a tutti!